Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 in direzione nord, rallentamenti per traffico tra Calenzana e BV1 Variante, per veicoli in avaria tra Firenzuola e Badia. In carreggiato opposta coda in uscita a Firenze Scandicci, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria e coda tra BV1 A11 e Firenze Scandicci. In A11 coda a tratti tra Monte Catini Terme e Prato Est e tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, tutto in direzione di Firenze. In Fipili per lavori troviamo due chilometri di coda tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze. Carreggiato opposta rallentamenti ancora una volta per cantieri tra La Strassigna e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti. Percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in Fipili per traffico, rallentamenti tra La Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!